ciao a tutti ragazzi io sono claus bentornati sul mio canale perdonatemi la voce un po raffreddata come tutti gli anni ormai che mi conosce lo sa la settimana a cavallo tra settembre ottobre è la più tragica partono i mal di gola i raffreddori il corpo che si deve abituare al freddo è un disastro io patisco il freddo cioè odio il caldo ma patisco il freddo come una bestia quindi finché il mio povero corpicino non si abitua al freddo passeremo le prossime settimane a colare muccio dal naso insomma una schifezza incredibile ma non siamo qui per questo siamo qui per commentare le carte nuove che sono uscite dopo milioni di anni che le aspettavamo non sono quelle che lo volevamo ma sono belle carte c'è da fare una premessa a sto giro hanno quasi del tutto fatto un bel lavoro nel senso che sono carte buone da giocare poi che siano alcune carte eccessive ma poi ci arriveremo e guarda un po il caso quale sarà la fazione che c'era la carta più rotta parliamo velocemente delle carte allora intanto prima di partire lasciate un like qui sotto se il video vi è piaciuto per aiutarmi a far crescere il canale perché e registrate iscrivetevi non registrate iscrivetevi non costa niente un click mi aiutate ah allora che cazzo e partiamo da quelle di regni allora partiamo dalle bronzo perché le bronzo sono un po il bread and butter di questa di questo archetipo abbiamo river scout 2 2 per 4 con uno armor order spawn and play a base copy of an allied bronze soldier excluding self quindi non possiamo rievocare se stesso e non possiamo rievocare un altro di questi qualora ci avessimo un altro però evoca e gioca il che vuol dire che attiviamo anche i deploy qualora ce ne fosse necessità della coppia base di un nostro soldato allora a parte che senza guardare altre carte nuove già ad oggi questa roba è molto carina perché va a trovare tante applicazioni guardiamo un esempio pratico la possiamo giocare al posto di quelle zozzerie di merda da 4 che giochiamo solitamente in revenant possiamo giocare questa anche se premettiamo a un punto debole questa carta ma mo ci arriviamo spawn and play ci apre tutti i tipi di soldati ci apre un revenant ci apre un il soldatino di redania quello che si gioca in combo con leader di oddio non mi ricordo mai il nome in italiano qual è quello con mobilization insomma quello che che ogni turno si carica la prende una carica e pinga no l'arciere possiamo giocarlo con quello senza fargli perdere l'armatura e poi possiamo combarci a sua volta il leader di mobilizzazione è mobilizzazione insomma siamo semplicemente mobilizzazione quindi nel senso è molto molto carino già oggi possiamo semplicemente fare che ne so ad ali a tamburino come giocavamo prima nel never pass soldati e poi cioè giocare prima questa puoi fare ad ali a tamburino e spawnare subito un altro tamburino puoi metterci anna un altro tamburino insomma capite che è vero che parte il pulsante rosso allarme allarme irden però overall possiamo anche splittare il body su più lane e andare a fare una value pazzesca over time quindi soprattutto di round 1 e soprattutto di di red diventa una play dove poi l'avversario dice cazzo però qua se non faccio qualcosa questo comincia a crescere un po come quando giochiamo contro scoiatel e lui di rosso paca casaschia subito mette una pressure incredibile no quindi è molto molto carino e obiettivamente non vorrei dare dei voti da da 1 a 5 perché alcune carte finché non le giochi è difficile dargli dei voti però questa gli diamo un bel 4 meno perché anzi 4 meno forse un po eccessivo un bel 3 e mezzo pieno perché comunque non è 3 e mezzo su 10 è 3 e mezzo su 5 ok quindi è importante capire questa cosa tanto 3 e mezzo su 5 per una bronzina di merda con due body proprio perché ha due body e non 3 se avesse 3 già sarebbe diverso ma vediamo dopo perché se avesse 3 sarebbe diverso però è comunque forte perché al di là di tutto se voi ci pensate se loro dovessero sparare su questa carta perché noi la giochiamo prima del soldato stesso e beh vuol dire che poi il soldato stesso o il target che noi vorremmo andare a copiare rimane attenzione quindi è anche un bait per per il removal pensate alla guardia reale di radovid che per tanti mesi prima che fosse powercrippata è stata la bronzo più giocata di regni questa più o meno è quella che prenderà il posto nei mazzi quello che il posto che era appunto della guardia reale di radovid che tuttora rimane comunque una bella carta quindi pensate a quanto potenziale può avere questa zozzetta qui parliamo invece dei river hunter 2 per 5 con 2 di armor order spawn a base copy of self on this row and set its base power to 1 less than self quindi cosa vuol dire che noi giochi se noi per esempio la giochiamo a 2 qui non è spawn and play è spawn evocherà una 1 perché chiaramente non dice la danneggia purtroppo perché se non sarebbe stato più forte con l'armatura ma comunque la danneggia di 1 ok quindi vuol dire che hai già due body però non dice che la forza dell'unità evocata deve essere della base power di questa carta dice che è di 1 più basso di questa carta il suo base power il che vuol dire che se noi questo river hunter ce l'abbiamo in campo senza aver attivato l'ordine per esempio questa carta va che ne so ce l'abbiamo a 6 il vuol dire che noi evocheremo una base power 5 che a sua volta evocherà una base power 4 se non dovessimo buffare quella copia quindi capite che quando voi fate tamburino adalia tamburino mettete river scout mettete un altro tamburino poi giocate river hunter poi attivate l'effetto di river scout evocate un altro river hunter più grosso che a sua volta in mezzo ai tamburini si buffa viene un altro river hunter cioè queste tre carte da sole plausibilmente hanno la possibilità di riempire completamente la board da sole solo queste tre ovviamente non sarà così perché noi andiamo a giocarci altre cose ma io vi sto parlando puramente di plausibilità delle carte quindi già tamburino hunter e river scout volendo in un round dove noi giochiamo a rimuovere a controllare hanno la possibilità di riempirci la board di soldati da sole ok questo è concettualmente importante da capire per le carte che arrivano dopo in più il river hunter alla fine del turno se è bonded quindi ovviamente usando l'order sempre ed è sulla raw melee danneggia di uno l'unità col potere più alto che è ottimo questo questa roba qui perché direte voi ottimo perché ci setta igni che è una carta che molto viene giocata in questo periodo quindi capite che avere la sicurezza di sapere dove va il danno in molte occasioni è meglio di andare a bilivare nel ping casuale a fine turno quindi il che la rende molto più forte per esempio dei soldatini di Nilfgaard che fanno la stessa cosa perché qua abbiamo dei danni che sappiamo dove vanno certo costa 5 ma sappiamo comunque i danni dove vanno questo cosa vuol dire che se noi decidessimo per ignote ragioni perché la mano non ce lo permette non abbiamo tamburini non abbiamo buffa non abbiamo un river scout abbiamo solo il river hunter in mano possiamo comunque combare ad alia con questo river hunter spawnare la copia a uno magari buffare con leader di più due scudo divino su ste minchiate poi a sua volta giocarne un'altra insomma cominciamo ad avere un engine di ping a fine turno che sparano sempre sulla più grande che possiamo combare con tante cose non solo con igni comunque possiamo combarla con jennifer incantatrice possiamo combarla con le nostre lemuval perché non è detto che l'avversario deve avere per forza una 15 in quel momento può anche avere che ne so 2 7 per dire no e quindi è una carta che pure questa si prende un bel dal 3 al 4 quindi molto buona come carta e sono due ottime bronzo sono due ottime bronzo perché non solo vanno a buffare un archetipo che si era un po in disuso che era quello del buffa wedi eh possiamo giocare miv grazie a queste queste due carte perché spawniamo un sacco di soldati quindi miva se riusciamo a difenderla avrà tante unità da buffare capite la possibilità che aprono queste carte certo non sono grossissime mi rendo perfettamente conto che il body non sia grosso ma a parte skellige roba che pierce all armor non ce n'è a livello di remuvalo comunque in questo momento non se ne sta giocando quindi avere due di armor è come avere due di body contro tante fazioni e quindi è come se fosse un a4 che ovviamente entrerà buffata dal meno di uno da qualcosa da da una anna da un tamburino da qualcosa quindi già è una 5 per 5 che spara a fine turno è una 5 per 5 che che evoca una coppia di se stesso capite quanto è value e io mi sono fermato su queste due carte perché poi come il livello di queste carte molto alto il power level delle carte è giusto farvi capire che i body è il rilevante perché questo che arriverà e ve lo preannuncio sarà un guent dove combatteremo a spada sguainata per vincere round 1 quando leggeremo le carte leggendari epiche che arriveranno insomma ora capirete perché comunque kenn e tengara 6x9 formazione ordine destruge un enemy unit con 2 o less power quando spawni un soldato incrementa il limite di 1 questo cosa vuol dire formation quindi se non è che ci serve sparare due tendenzialmente andremo a metterla dietro nonostante tutto ciò però vuol dire che se ci serve lo zial per sparare due non necessariamente non possiamo farlo quindi già una 8 scusatemi un singhiozzo già una 8 per 9 quando spawniamo un soldato quindi come abbiamo visto entrambe le nostre bronzo spawn and play ok incrementa il suo limite di 1 quindi questa è un'ottima play è un po' l'immortale versione danno non è chiaramente la stessa cosa mi rendo perfettamente conto però è un po' l'immortale versione versione danno nel senso che lo lasciamo lì ogni volta che spawniamo invece che ogni volta che lavare lo scudo aumentiamo il limite di danno invece che può fare che cosa vuol dire che è una carta che di per sé non è eccezionale che è carina ma non è eccezionale però lasciata lì è pericoloso facciamo un paragone di un'altra carta simile la istred è una carta con una meccanica simile nel senso che è una 6 che c'ha pazienza quindi ha bisogno del suo tempo come questa ha bisogno del suo tempo man mano che noi esponiamo soldati è una carta che noi giochiamo perché quando si attiva è buona e se non si attiva è perché vuol dire che ci hanno scaricato sopra qualcosa di buono perché comunque un po' di 6 anzi 7 perché formation spesso no quindi capite bene che non è una brutta carta quindi io gli do un bel 3 e mezzo pieno perché se l'è meritato tutto ma arriviamo a boholt boholt 2 per 12 1 armor formazione ordine spawn a base copy of an allied bronze soldier on this row anzi no on this row scusatemi on its row che cosa vuol dire questo è importante che spawna una copia a base cioè se noi copiamo un'unità davanti l'unità la spawnerà davanti ok non dice on this row perché se fosse nella row di bolt avrebbe detto on this row invece essendo che noi è on its row è un po' l'effetto ravenant ok spawna solo sulla sua linea ogni volta che noi giochiamo un soldato questo viene bustato di due perché questa carta è buona ok perché se questa carta per quanto sia fortissima in un round 3 lungo dove noi iniziamo la partita o sotto push anche dove noi iniziamo la partita abbiamo bisogno di diciamo sviluppare board per iniziare a fare punti abbiamo l'iniziativa questa carta anche per il round 1 se siamo di red per vincere è un investimento si ma non è neanche male perché noi in questo archetipo di deck non abbiamo solo questa come carta chiave avremo miv avremo i buff away avremo l'assalto quindi già se ci aiutasse a vincere il round 1 a even e credetemi che vincere il round 1 a even quando usciranno ste carte sarà molto più fondamentale di adesso che già siamo tutti d'accordo che è sempre stato buono vincere il round 1 ma vi assicuro che per il quente che verrà vincere il round 1 a even non dico che necessariamente è praticamente da eschi invio per l'avversario ma a volte sì ma a volte sì questa carta è forte perché perché entra e quindi dice subito che si busta due volte perché quando entra già a parte il più due suo quindi già va a quattro con uno di body se non volessimo usare la formazione lo combiamo insieme a uno tra river hunter e river scout che possiamo combare anche solo sulla copia spawnata da lui quindi a sua volta è un altro più due quindi già entra 6 più 1 insomma è una carta estremamente forte ha bisogno dei suoi turni per recuperare le prove ma neanche di troppi turni già un paio di turni va ampiamente in prove questo potenzialmente può arrivare in un round lungo a una ventina di punti tranquillamente più il body che spawna quindi fa una value pazzesca sono 12 prove ma sono 12 prove meritatissime e andiamo avanti quindi scusate mi abbiamo detto a bolt gli diamo un 4 diamo 4 meno su 5 ok quindi è un buon voto perché comunque stand alone è una carta che ha bisogno di tempo se no prenderebbe un voto più alto ma andiamo avanti e arriviamo alla nostra fazione preferita guardiamo le carte di Nilfgaard l'unica come vedete già peraltro da queste artwork la differenza rispetto al solito è che di solito mi sentite sempre dire la classica frase Nilfgaard dalle artwork più belle ha sto giro un po' deludenti nel senso brutte non so brutte però allora vediamo knight challenger 5 per 4 quindi già body worth deploy gain vitality equal to the amount of boost quindi perché è così forte sta carta perché se anche l'unità avversaria fosse una merdosissima non so una madriade a cui hanno dato una carica ok vuol dire che già c'è un più 4 quindi questa è già una 9 per 4 ma quando questa roba prende vitalità almeno di 3 quindi un po' sempre quasi quando giochiamo sta roba boost all units by 1 attenzione perché non dice boost all your units by 1 ok? non la vediamo come la carta dice boost all units quindi le tue e le sue ovviamente non è fatto a caso questa meccanica delle carte nuove di nif che andiamo a vedere è basata sul buffare gli avversari e ciucciargli i buff quindi non è male soprattutto in ottica del andiamo a rubare buff ma come avete visto anche dalle carte di regni non sempre è una carta così eccezionale perché anche l'avversario avrà tantissime unità che quindi buffare di 1 troppe unità rischia di essere svantaggioso ciò nonostante può avere una buona value sembra a leggerla una carta molto più forte di quello che è ok? ve lo assicuro prima a Kitto anche io l'avevo letta male veloce dico no ma che è sta roba però vi assicuro che secondo me questa carta è molto pericolosa perché se voi siete costretti a giocare questa carta in un round dove vi stanno pushando non solo questa carta è una carta da unicamente round 1 ma diciamo probabilmente vedrà gioco perché nel suo archetipo 1 ce lo puoi me ma vi assicuro che è nettamente più forte di quello che sembra cioè scusate è nettamente meno forte di quello che sembra quindi io mi sento di dargli un 2 di più un 2 sulla fiducia ok? non di più perché se non fosse grazie a 8 ma fosse grazie a 8 ordine sarebbe stata molto più forte perché tu puoi decidere se o no andare a baffare così non mi piaciucchia troppo perché se ti stanno pushando rischia di essere una 5 che non fa un cazzo o una 6 nella migliore delle ipotesi che certo non è una roba oscenamente brutta però è comunque una bronzina Buhart boost tattica quindi è importante sapere che è tattica boost all enemy units by 3 scusatemi an enemy unit by 3 and then an allied unit by 9 quindi è una normalissima 6 per 4 in ottica di valore puro però è molto più forte per il fatto che baffare di 3 baffare di 9 la nostra carta ci attiva tante capi per l'altro questa cosa fa meno male che non è neutrale se no pensate in un mazzo con cavalieri comunque è inutile soffermarsi su questa carta perché questa carta stand alone è semplicemente una rondine quindi andiamo a spiegare il perché ovviamente come avete capito la meccanica del baffare gli avversari per poi andare a prendere gli buff è molto forte perché si applica alle nostre altre carte ma andiamo a vedere Guilel Guilem dell'unfo 6 per 8 deploy boost self and an enemy unit by half on their combined power cosa vuol dire? che lui si busta di di metà della somma dei loro poteri quindi immaginiamo se noi prendiamo un'altra 6 come target ok il loro potere combinato è 12 vuol dire che entrambi quindi sia Guilem che l'altro si bustano di 6 ok ordine a grazia 14 move all statuses from an enemy unit to self diciamo che questa è un po' più macchinosa e forse grazie a 13 sarebbe stata meglio ora della fine però comunque non è male perché direte voi perché il defender è uno status perché immune potenzialmente è l'unico status che non possiamo andare a rubare proprio perché non è targettabile ma il fatto che questa roba ciucci l'essere defender o il fatto che questa roba ciucci lo scudo ciucci le vitality non è male obiettivamente quindi certo va vista bene nello specifico quindi per ora l'accalmiamo qui Buchler Resilience Location non è uno scenario è una location so che dall'immagine sembrava set an allied the unit power to match the highest power of enemy unit e mo capite il perché è figo buffare gli avversari perché sta roba più o meno fa quello che avrebbe dovuto fare il calice quando e il costo soprattutto che ha quando è uscito perché comunque è una carta che costa 13 e poi ovviamente come ordine chiaramente resetta il potere di un'unità quindi più o meno fra quello che ha il calice insomma quindi se noi andiamo a chain buffare con cavaliere di Nilfgaard con Buchurt con Guilhelm una singola unità andiamo a guadagnare una tonnellata di buff su noi stessi ok e poi la sua la resettiamo se lui dovesse metterci un defender davanti abbiamo Guilhelm che glielo ciuccia al defender quella roba lì ok che è buono che è buono qual è il problema che questa meccanica di Nilfgaard è molto forte quando l'avversario non sa giocarci contro ok in un ipotetico round dove noi siamo di red è una meccanica molto carina cioè adeguata o dove noi giochiamo in risposta e abbiamo la last 6 perché in una meccanica in una partita dove ci stanno pushando queste carte fanno più o meno cagare tutte a parte Buchler che qualcosina insomma fa giusto perché ci fa recuperare body resetta l'unità insomma è bene o male è buono ma le altre sono delle minchiate poi ovvio Ghilhem già solo perché ruba lo status defender è buono ma deve anche arrivare a grazia 14 attenzione cioè grazia 14 vuol dire che deve prendere un buff da 8 cioè non sono cazzate poi ovvio che tra le nostre carte le sue ci arriviamo ma capite no qual è il problema capite perché non è buono che questo boosti tutto di 1 quindi io alla fazione di Nilfgaard di per sé mi sento di dare 2 e mezzo non perché la meccanica non mi abbia convinto ok ma perché è una meccanica che sostanzialmente ha bisogno di tempo della moneta giusta e di altre cioè sono tutte meccaniche belle sta roba anche perché questa resetta perché noi possiamo giocare cioè è semplicemente una meccanica fortissima con una moneta e completamente la merda con l'altra cioè completamente la merda è un po' eccessivo però capitemi è forte perché comba bene pure con Ivar sta roba capite cioè con Ivar occhio ma già adesso se tipo noi andiamo a overbuffare in unità facciamo Ivar e Ivar vince da solo quindi Ivar si applica molto bene a sta roba anche i toll removal di Nilfgaard si applicano bene non solo Vilgeforce stiamo parlando anche di Leo che si applica a sta meccanica quindi sono tutte meccaniche buone e sinergiche però capite che finché siamo noi a giocare in risposta riusciamo a farlo ma quando ci stanno pushando round 2 è tutto terribilmente molto lento quindi questa meccanica secondo me ci metterà molto molto a trovare una lista adeguata sarà forte in torneo perché abbiamo la moneta scelta da noi per quanto riguarda la ladder se non nerfassero cioè poi può essere raga con la patch che arriva arrivano dei cambiamenti dove le bronzo meno usate le reworkano e hanno sinergia con sta roba ok però ad oggi è una meccanica carina però capite che guardando anche quella di Regni per quanto sembra che la counteri non è proprio del tutto così e quindi certo è pur vero che se l'avversario è di blu noi tiriamo un Ivar a fine round che recupera 30.000 punti o tiriamo un Ghilem insomma Buclair quello che volete e quindi siamo d'accordo però sapendo che sto mazzo va pushato è un po' mi sento di dire una versione diversa di seguaci che ci sono partite dove tu vinci round 1 è bella per te e ci sono partite dove ti pushano e capite ecco quindi diciamo gli diamo un 2 più sulla fiducia sta meccanica che potrebbe diventare un 5 o potrebbe diventare un 0 ce lo dirà il meta non mi sono voluto soffermare troppo su Nilfgaard perché non mi ha convinto del tutto quindi passiamo invece a Scoia'tle allora partiamo da la leggendaria in questo caso perché è importante allora la leggendaria è non so come cazzo si dica la chiameremo Arwen perché palesemente è un richiamo a lei a quella del signore di anelli e non so pronunciare questa roba quindi la chiameremo Arwen vaffanculo è una 5x13 con simbiosi infuse tutte le a parte c'è la nuova tag che è naïade vabbè infuse no va saputo nel senso infondi tutte le tue naïadi con la categoria natura ogni volta dovunque sono ogni volta che spawni un wandering trend che sono quelli delle passive di simbiosi gli alberelli gli dai vitality uguale al numero delle driadi che controlli è gigante sta carta qui è letteralmente gigante perché ti dà un carry over nel corso della partita infinito potenzialmente infinito già noi di driadi ne giocavamo tanti abbiamo i poison adesso abbiamo le classiche driadi ne merda abbiamo le amadriadi fove eccetera eccetera in più abbiamo queste nuove eitne è una driada forse è passata e non ha servato questa cosa ma è una driada le driadi a due con natura evocate da da etni e dall'altro satiro bastardo hanno simbiosi pure loro capite che è una bella sinergia poi in fondo scusatemi la sta roba qui va bene è fortissima anche se voi avete un'adriade sola in campo è devastante è proprio enorme sta roba cioè non so spiegarvi quanto è forte perché è veramente ha un power level ipotetico illimitato durante una partita lunga ma attenzione perché per ogni driade che controlliamo prendono vitality ma lei dà infuse non alle driadi alle naia di mo ce n'è qualcuna e sicuramente con la patch di balancing di quando usciranno ste carte un paio di naia di tag a caso le ciucciano dentro però è giusto comunque dirvelo partiamo invece adesso dalla spell frog mating session scegli due unità alleate gli dai quattro vitality quindi già è una otto per nove senza contare amadriadi che probabilmente questa è una amadriadi che fa i disastri e spawna una rana in ogni lato del campo ok mo noi la rana non la vediamo perché ovviamente la rana non ce la fanno vedere questi schifosi però la rana non mi ricordo che cazzo fa l'avevo vista solo che non mi ricordo l'effetto non so dove ritrovarla comunque già di per sé è buona ma sappiate che con la rana era ancora più forte però la rana non mi ricordo che fa però era forte quindi questa carta vedrà gioco questa carta vedrà gioco ma passiamo alle bronzo e poi diamo i voti naia the fledging whenever your symbiosis is triggered quindi è una 4x5 give the unit to the left vitality 2 quindi questa carta già è forte perché perché se noi la giochiamo in combinazione con una qualunque simbiosi è una più 2 quindi già è una 6x5 appena entra più o meno appena entra remove all your vitality from your allied unit then boost self by the same amount questo effetto non è che sia proprio OP ma qualora non riuscisse a trovare il timing per giocare questa carta o vi trovaste nella condizione di essere all'ultimo turno e avere più di uno vitality su un'unità questa vi permette di non buttarli quindi diciamo che può prendere una value di uno o due questo ordine mediamente quindi è uno o due diventa una 5x5 considerate la passiva in un round lungo che è molto forte perché questa se la mettiamo a sinistra di una madriade gioca per quattro punti ogni due turni su una madriade e ha una value gigantesca è vero che è piccina lei però capite bene che se questa carta avesse più body come cazzo la fermi quindi è giusto che abbia questo body secondo me e quindi ci sta Nyad Pond Keeper non so cosa voglio dire Pond Keeper sicuramente sarà boh quella che tiene il pond non so che cazzo sia e melee deploy sceglie un trend token sostanzialmente e danneggia un'unità avversaria in base al potere di questo trend poi resetta il wandering trend allora se fosse stata semplicemente choose un wandering trend e danneggia l'unità nemica del suo potere senza il reset un wandering trend questa carta sarebbe stata completamente sbroccata e senza senso ok il fatto però in un mazzo che spesso si trova a giocare devotion avere la possibilità di fare un danno più alto di 5 chi di voi ha giocato simbiosi devotion sa che avrebbe leccato la cacca di cane per strada per poter sparare più di 5 quindi questa ti apre delle possibilità soprattutto per quanto possa sembrare brutta pensate contro un mazzo nilfgaard che abbiamo appena visto di quelli di prima avere questa possibilità perché noi possiamo giocare in risposta a questa carta all'over buff di un'unità quindi levare magari un suo defender levare magari il suo guillelm è tutto questo tipo di unità così perché sostanzialmente può giocare da counter seppur contro altre fazioni rischia di essere uno snare questa roba però nessuno vi obbliga a metterla davanti perché se la mettiamo dietro infonde una carta non simbiosi alleata con simbiosi quindi è ancora più sinergica con la fazione e capite bene che quando cominciate a mettere uno o due tre bronzo adesso e poi cominciate a lanciare le bronzine con natura diventa forte ma attenzione perché non dovete dimenticare che Irwin mette natura tutte le driadi quindi queste carte proccano simbiosi quando entrano il che cosa vuol dire che se noi abbiamo una madriade partiamo a madriade carica prende prende due vitality poi naiad fledging che ha anche la categoria natura quindi proca simbiosi bam mettiamo naiad fledging e diamo altri due vitality alla madriade intanto sponiamo un token ok è grossa sta roba è grossa molto grossa anche perché noi possiamo mettere pure simbiosi a una cagata tipo il defender con la naiad pond keeper possiamo mettere simbiosi a fove cioè auguri voglio dire a non sparare solo due su fove capito quindi mi sento di dare voti singoli tipo darei un dal 3 al 4 alla scusatemi dal 3 al 4 alla pond keeper perché è una carta un po' situazionale ma molto forte ed è comunque una 5 per 5 che avrà natura quando entra mi sento di dare 4 alla naiad fledging mi sento di dare 3 e mezzo perché quando ho visto la rana mi è sembrata forte adesso poi raga quando usciranno la riguardiamo meglio però diciamo che su questa diciamo che è forte non mi ricordo bene che cazzo fa comunque era fove quando l'ho letta mi è sembrata forte quindi mi sento di dare un 3 e mezzo a sta roba ma lasciando stare il frog meeting season darei un 5 meno a darwin non perché comunque era tempo play un po' piccina però ha simbiosi anche lei è molto forte c'è una carta che voi potete anche giocare la come cazzo si chiama la pergamena anche solo per andare a tutorare lei e siamo tutti d'accordo che chiaramente sull'immediato non è una pergamena valida quanto può essere Saskia di di red ok però pensate ai punti che recuperiamo sul lungo termine pensate al fatto che possiamo avere accesso grazie a queste carte a un removal fuori da canicola più grosso di 5 su su simbiosi finalmente simbiosi diventa un mazzo con un po' di tattica e non è più uno slam point personalmente bel 4 più ad Ic quanto gli ho dato non mi ricordo 4 più glielo devo dare alla meccanica di per sé non possiamo dare voti perché bisognerà che si adatti a quello che sarà il meta perché ovviamente bisogna vedere se sarà un meta grid se sarà un meta di controllo perché è vero che per ora sembrano tutti i mazzi slam point però allo stesso tempo insomma aggiunge come vi ho detto tattica al deck perché anche soldati ha bisogno di tattica ok quindi vediamo ora aspettate di aprire la gatta che sennò mi spacca la gatta un secondo ok continuiamo perché avevamo bisogno di una gatta che non riusciva a stare senza il suo papà e quindi ha dovuto per forza arrivare qui allora eeeh poi 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 passiamo invece a sindacato eeeh sindacato adesso ridiamo più o meno perché adesso ridiamo allora eh partiamo dal brozzo pull in the strings profitto 0 costo 5 size quindi vuol dire ruba l'effetto filippa diciamo l'unità con costo 0 o meno ovviamente incrementiamo il profitto di 1 per ogni gang che abbiamo nel nel deck no un po' come il vecchio dixtra che giocavamo in in sindacato prima eeeh incrementa il potere eeeh eeeh e il profitto per ogni gang che abbiamo nel deck è una carta carina perché allora eeeh il discorso è se noi abbiamo 5 unità nel mazzo ok noi incrementiamo il profitto di 5 incrementiamo il il potere del del size ma decrementiamo il profitto per ogni gang che abbiamo in campo che cosa vuol dire che se noi abbiamo eeeh 0 unità in campo ok questa carta diventa rileggiamola 0 0 gang in campo incrementa il profitto di runo per ogni gang che abbiamo nel deck quindi immaginiamo di averne 5 ok quindi è una profitto 5 a costo 5 noi possiamo eeeh andare a rubare una 5 quindi tendenzialmente buona ma se noi avessimo 3 gang in campo rileggiamo la carta profitto 0 ruba un'unità con 0 meno potenza incrementa il profitto per ogni gang categoria che hai nel tuo deck di partenza che vuol dire profitto 5 no però in campo ne abbiamo 3 incrementa il potere e diminuisce il profitto di 1 per ogni gang ai controlli quindi vuol dire che se noi in campo ne abbiamo 3 noi rubiamo una 3 e abbiamo profitto 2 a me sta bronzina non fa impazzire sinceramente non è brutta perché invece che avere 5 gang adesso bisognerebbe contarle ma potremmo averne qualcuna in più in un mazzo montato a modo quindi potrebbe essere un size 4 che per il suo costo attenzione per il suo costo è ok problema è che non è una carta che oh my god capito è pur vero è pur vero che come carta profitto di partenza è buono ma capite bene che se voi giocate questa carta come cioè se questa carta fosse una carta che sizea subito l'avversario parte con un engine importante magari come prima play e voi avreste la possibilità di prendergliela invece se voi non avete carte ricordiamo se voi non avete niente sulla board di gang a parte che è difficile perché tutta la resilience che c'è però ipotizziamo che noi non abbiamo niente abbiamo la candela abbiamo un cazzo vuol dire che noi incrementiamo il profitto scusate il power per ogni per ogni gang che abbiamo in campo che vuol dire che all'inizio è solo profit se non abbiamo niente ok quindi me non fa impazzire poi ci sta pure che si giochi perché cioè anzi ci sta pure che si giochi si giocherà perché fai che noi siamo apparecchiati e abbiamo cinque gang questa carta è una dieci per cinque se anche solo ne avessimo tre diventa una sei per cinque con qualche monetina il problema è che questa carta qui non è che non sia forte di per sé ma non risolve tanto rischia anche di non trovare target quindi Imo non si giocherà però fai che la possiamo una la possiamo giocare just in case giusto perché pull però non mi sento di dargli più di uno sinceramente a sta roba qui però magari l'ho interpretata male magari l'ho letta male non lo so a me personalmente non piace però vedremo little bird human agent cinque per cinque dice deploy infondi se stessa con una categoria gang di un'unità del tuo deck quindi si infonde solo con cose che abbiamo nel mazzo attenzione che va specificato non dice del tuo starting deck dice del tuo attuale deck ok tariffa 2 boost and ally ovviamente giocata round 1 ok se arrivasse dopo è giusto tenerlo in considerazione tariffa 2 boost and allied unit by 1 for each unique gang category you control cooldown 1 quindi la tariffa è obiettivamente fortissima perché fai che noi ne controlliamo 3 o 4 abbiamo una value bella bella figa perché già che controlliamo 3 e lei si infonde con un'altra cazzata diventano 4 quindi tariffa 2 boost di 4 è un cazzo no? nel senso bella forte meno male gli hanno dato cooldown 1 oserei anche dire comunque carina gli possiamo dare un 2 e mezzo un po' a livello delle delle bronzine che abbiamo visto finora meglio di quelle di Nilfgaard forse peggio di quelle di di Regni però devo dire che se fosse order e non fosse deploy sarebbe meglio però vabbè considerato che puoi fondere solo se stessa ci può stare però vabbè comunque la carta diversa è buona perché gioca per una media di 9 per 5 su quando entra quindi è obiettivamente rottissima no? sul deploy e soprattutto è una 5 che devi risolvere perché sennò è un disastro cioè va diventa ingestibile sta roba no? quindi 2 e mezzo solo perché anzi mi voglio sbilanciare gli do 3 su 5 3 su 5 perché gli avrei dato 4 se non fosse cioè se fosse scritto in fondi se stessa con una categoria gang dal tuo deck di partenza meritava sicuramente 4 ma siccome pescata non a round 1 perde molto del suo potenziale è giusto non dargli più di 3 secondo me quindi 1 e 3 per adesso comunque raga 3 su 5 non è la sufficienza è più della sufficienza ci tengo a precisarlo perché sembra che do solo voti bassi ma semplicemente le carte vanno analizzate per quelle che sono senza creare inutile hype laddove non ce n'è bisogno Bart body 6 4 armor costa 8 ogni volta che giochi in unità con gang di una categoria che non controlli al momento e quindi il fatto che lui non abbia gang è una bella cosa guadagni una moneta per ogni categoria di gang che tu controlli che cosa vuol dire che all'inizio guadagni una moneta poi ne guadagni 2 poi ne guadagni 3 eccetera eccetera allora overall non è una carta che oh mio dio al miracolo ma è comunque una 6 per 4 che potenzialmente undisputed quindi difficile da rimuovere se non è che ce la bloccano guadagna 1 1 2 3 4 quindi sono 4 4 8 una 9 potenzialmente è una 15 per 8 di average in un round normale quindi nettamente buona come carta ai suoi tempi chiaramente siamo tutti d'accordo ma nettamente nettamente buona anche qui mi sento di dare un 3 meno perché il meno è solo per il fatto che può essere bloccata però di per sé la carta è una carta ok semplicemente perché è comunque una 6 con 4 body e quindi fisicamente è una 6 però cioè sono 6 punti che non ti negano e sindacato ha un purify con tariffa senza cd quindi meno di 3 non mi sento di volergli dare non gli voglio dare neanche troppo di più perché bisogna vedere se l'archetipo stand alone prenderà piede ma perché non dovrebbe prendere piede e mo ci arriviamo quando Sigi Riven Mastermind Human Agent Aristocratico vabbè che se non ce ne frega un cazzo già il fatto che anche lui non abbia una gang è un bel buff per l'archetipo in sé ma andiamo avanti Deploy Look at collusion and a random card for each gang from your deck then play one ok quindi vuol dire che di base ti dice puoi guardare alla collusione e a un'altra carta nel mazzo per ogni gang nel tuo deck attenzione anche qui non è starting deck è from your deck quelle che vi sono rimaste quando giocate lui quindi se avete due carte nel mazzo e questa è la giocata come last 6 fa cagare ok no ci tengo a dirlo perché sembra che questa sia una carta da last 6 ho sentito gente commentare ah ma questa come finish a reggigà no questa serve per slobollare la partita guarda alla tua collusione è un'altra carta per ogni gang che hai nel mazzo e poi giocane una una tra le due non tutte e due non collusion più un'altra una ma tributo 9 gioca due tributa costa 2 in meno per ogni gang che tu controlli questa carta è da 5 ok perché è da 5 analizziamola voi avete uno spender in campo ok tipo uno sciacallo uno sgorbi qualunque cosa avete tre gang in campo ok c'è un finto quindi già il tributo costa 6 in meno lo giocate con off the books quindi costa 7 in meno quindi tributo 2 vuol dire che è una 4 per 12 è tributo 2 ok che di per sé ti fa giocare 2 carte e non è collusion più 2 è 2 o collusion più un'altra o altre 2 che non sono collusion è importante dirlo se noi non controlliamo gang la forza di questa carta è che ci pulla fuori cob da sola più o meno quasi da sola insomma quindi questa fa giocare 2 e ci pulla fuori cob quindi tinna 3 avete presente in un round 1 dove voi siete di red cosa cazzo vuol dire sta roba che voi potete giocare 2 bronzo merdose e tenervi le gold per il round 3 tinnare anche se avete la collusion settata bene potete giocare collusion e fare 50 punti ma chi se ne frega se anche non avete la collusion nel mazzo cioè sviluppata fa niente perché voi potete giocarla senza niente in campo giocarla insieme a uno sciacallo merdoso ok pullare cob riempirvi di coin settarvi filippa e giocare due bronzine powerful e spammare monete come un criminale potenzialmente la possiamo giocare con tutti i leader di sindacato non solo con off the books ovvio con off the books sul cob è più sinergica ma non vuol dire che non sia neanche giocabile con altre cose quindi questa è da 5 perché già il fatto che questa è una carta che è round 1 ok dopo che hai tirato 3 cagate bronzo tiri questa pulli cob hai già uno spender non perdi monete vinci il round levandoti la schifezza dal mazzo questa rende sindacato la fazione più stupida ancora più di quello che era prima perché perché ti dà una carta che è a round 1 ti tina la merda e ti fa vincere il round sotto push non ti fa perdere la carta e non te le fa perdere le carte con la merda perché tu puoi pullare le cazzate ok e se hai già le cazzate giocate giochi con l'usione fai 50 punti sta carta è rotta porco cane basta fare le carte rotte di sindacato avete cagato il cazzo ci sono 6 fazioni in sto gioco di merda comunque arriviamo all'altra preferita della della cdpr comunque sindacato direi che insomma si è presa un 5 3 3 1 perché a me non piace però ok direi che sta messa bene ora dicevamo skellige brock of our warrior 2x4 deploy damage an enemy unit by 3 quindi la 5x4 così subito se il target è danneggiato ripeti il deploy con una differente target sparando 2 sostanzialmente quindi diventa una 2 più 3 più 2 quindi una 7x4 l'average delle 7 forti a livello di punti stand alone però è un warrior e quindi il fatto di danneggiare due unità spesso è più worth che mettere una 7 di per sé come body quindi la value pratica è la stessa la value teorica è molto più alta no scusatemi la value teorica è sempre 7 la value pratica è molto più alta perché andiamo a settarci blood tears andiamo ad attivare la possibilità di fare haste 1300 minchiate forti senza contare che anche solo che spacchi un engine a 3 di regni per dire va benissimo il suo l'ha fatto feral bond questa è una carta fortissima intanto a questo signor brock gli diamo un 3 e mezzo di suo anche perché è pure un warrior a 4 stelle col deploy quindi lo possiamo usare anche con guerra fra clan comunque spawn skellige wolves on an enemy row and damage it by uno then create a bronze skellige warrior plat is 3 you may spawn and play any bronze skellige allora questa carta è rotta perché il lupo intanto va detto che è una 2 quindi skellige wolves noi glielo uccidiamo cioè glielo danneggiamo di uno e dopo creiamo un'unità skellige bronzo ok non riesco a capire perché qui ti dice tu puoi spawnare e giocare any bronze skellige warrior instead perché any skellige quindi sempre bronze cioè non è any skellige warrior instead che ovviamente non sarebbe stata umanamente accettabile la cosa forte è che no no ok ho capito ho capito perché in questo caso allora se noi lo usiamo con il primo attivatore noi siamo costretti a creare uno uno skellige bronzo invece così lo possiamo evocare e giocare invece che semplicemente crearlo e ok ok e sono diciamo che si a prescindere da da quello che ci esce è forte perché col create tu devi scegliere fra un minimo pull di skellige warrior quindi ti può anche uscire la merda ora è difficile perché non è che siano proprio tutti questi warrior orribili sono più o meno quasi tutti buoni però con blattis 3 scegli tu ok cioè questa è la cosa importante che scegli tu sostanzialmente è forte anche perché è una carta ride ok che vuol dire che prende value dai signori dell'alto piano quindi invece che sparare di uno spareremo a più di uno quindi questa a mani bassa prenderà il posto della carta con la manina che evoca il lupo da 6 c'è l'orso da 6 in skellige warrior ed è molto forte ok è un ride che ti permette di scegliere esattamente il cazzo che vuoi in un mazzo warrior una carta che spara e ti fa scegliere un warrior che poi diciamo che in un mazzo warrior ti va bene un po' qualunque cosa di quello che spawna quasi ma poter scegliere non fa mai male considerato che non non è come la manina dell'orso che ha bisogno di uccidere attenzione questo ha bisogno di blood tears 3 cosa vuol dire che se noi la giochiamo dopo il brock war warrior che ha già sparato 2 è già danneggiato 2 la terza unità danneggiata ce la dà il lupo che evochiamo sono già 3 quindi io mi sento di dare al fair al bond 4 e mezzo perché mi sembra una carta molto troppo forte per essere una 4 pro troppo forte a mio giudizio se non fosse stata ride gli avrei dato 3 ma essendo una carta ride non posso dargli meno di 4 su 5 se mi sembra una carta completamente sbroccata ulula abbiamo ululato quei lupi eh sì come i lupi questa è una citazione eh che qua vorrei vedere nei commenti qualcuno la chiappa comunque order damage in unit by 2 quindi 6 per 8 diciamo 8 per 8 ogni volta che un'unità avversaria prende danno dai tuoi guerrieri danneggia la d1 e ignora la sua armatura potenziale pratico adeguato ipoteticamente in un round lunga lasciata lì in un round lungo questa carta fa una trilionata di cazzo punti perché combatta con Harald Harald diventa uno sparo 2 ogni volta io con Warrior ignorando l'armatura e questa roba qui unita anche alla 4 con un armor e velo che si mette davanti e pinga 1 a fine turno devastante pinga 2 diventa la value incredibile sta 1 la non va bene va levate ma che carte del genere vanno levate perché hanno un potenziale troppo forte e poi che sotto push mi dite che sta carta non è granché ma neanche vero perché tu la metti e lui se continua a pusharti basta una bronzina che poi comincia a chain sparare pa 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 pensate sta merda qui che evoca con questa in campo fai ulula evochi ferr al bond pari evochi su un dato bronzo magari ti esce un Brock War Berserker lì come cazzo si chiama quello che la 5 che pinga 1 e poi diventa un orso che invece di pingare 1 pinga invece di pingare 2 in totale pinga 4 poi diventa un orso da 6 e nel mentre che arriva il primo ping poi ne possiamo incastrare un'altra intanto gli abbiamo danneggiato abbiamo un leader facciamo cose che sparano e diventa un disastro cioè capite bene che diamo fuoco a quella bordo di merda e diventa una roba incredibile non so se vi è piaciuta la voce da braccio di ferro questa è una battutina da boomer comunque onestamente a ulula allora intanto per il nome merita 10 su 5 perché abbiamo ululato però mi sento di dargli un bel 4 meno perché si stand alone fa cagare ma ti apre una possibilità di punti in più durante il round troppo forte adesso qualcuno mi insulterà è ovvio che non è forte come Fukushia e siamo tutti d'accordo costa tanto di meno non stiamo facendo paragoni ma in un mazzo warrior i punti che fa lei sono i punti che fa la rain di Fukushia forse di più detto questo passiamo a Sov Sov immune zeal summon a beast from your deck to the opposite row and infuse it with death wish boost the enemy Sov twice by own base power then damage it for 1 for each damage the enemy unit allora leggiamola bene dice ordine a parte che non ha 11 11 con immune e fervore comunque quindi potrebbe essere un target d'emergenza di di haste però c'è anche da dire che se noi abbiamo il blood tears su haste questo altro che target d'emergenza ce l'abbiamo in mano la facciamo entrare gratis però poi ci arriviamo fervore e ordine evoca una bestia dal tuo deck quindi più o meno verrà giocata sempre con l'orso selvaggio da 8 a costo 5 che danneggia di 2 quando entra ok e attenzione infondila con rantolo di morte detto come cazzo lo ho chiamato desiderio di morte ultimo desiderio in italiano schiava oh mi sono ricordato boost di enemy sov quindi baffa del doppio del suo potere base che vuol dire che quell'orso vi baffa sov di 16 dopo danneggialo di 1 per ogni unità nemica danneggiata ma questa parte dell'effetto siamo tornati sulla nostra board cioè summon a beast from your deck to the opposite row siamo sulla board avversaria infondilo con deadwish siamo sulla board avversaria torniamo sulla nostra board che vuol dire che se noi diamo quest'orso da 8 e lui ha 3 unità danneggiate lo danneggiamo di 5 e scusate lo danneggiamo di 3 ma siccome abbiamo ulula lo danneggiamo di 6 ma chi se ne frega possiamo anche non danneggiarlo perché noi sov lo combiamo con haste se lui ha 3 unità danneggiate noi facciamo come l'aste 6 haste peschiamo facciamo entrare sov dalla mano usiamo sov evochiamo l'orso anche se non muore sti cazzi attiviamo il leader che giochiamo con haste mandiamo una unità al cimitero che visto che jutta probabilmente non si giocherà più sarà un altro orso merdoso forse o magari si giocherà jutta non lo so ancora non ho fatto i conti delle prove spariamo sull'orso l'orso ci buffa di 16 sov quindi ace ha giocato per i soliti 25 punti più 16 più 11 di sov che sono 27 quindi sono più o meno 55 punti di last 6 di average con questa play attenzione mondialcasa per voi solo per oggi sembra che sto facendo una televendita ma pensate al potenziale di punti che apre questa carta pensate a partite dove questo mazzo avrà la last 6 e voi passate la partita a levargli la roba e lui fa 55 punti di last 6 e poi perdete sembra di giocare tra Regis e Renfri ma che cazzo è sta roba sov voto 4 e mezzo subito subito comunque carte di Skellige bellissime gag a parte carte di Skellige bellissime facendo un overall value vabbè le bolle di mostri le vedremo poi domenica sabato quando cazzo eh devo dire la verità mi piacciono tutte a modo loro Skellige e Sindacato mi sembrano Skellige e Sindacato e Scoiatel anzi diciamo che se dovevi metterle in ordine dalle più rotte alle meno rotte metterei Skellige e Sindacato come più forti seguite ma veramente attaccate al culo da Scoiatel e Regni ma proprio attaccate al culo e subito dietro un po' dietro quelle di Nilfgaard ma io sono anche dell'idea che Nilfgaard con tutti i rework belli dei soldati che gli hanno fatto non aveva bisogno di tutta sta roba sta roba si giocherà splashata coi soldati e con Aivaro coi soldati e i witcher insomma si vedrà Nilfgaard avrà bisogno di tempo per trovare la sua lista buona le prime liste forti a venire fuori saranno quelle di Sighi perché cade anche all'occhio di un profano che questa carta è rotta e quindi tendenzialmente all'inizio il meta si evolverà con Sighi che sarà il dominatore dei primi 2-3 giorni e con le prime liste vago accettabili perché fare una lista vago accettabile è facile però fare una lista OP ci vuole tempo quindi poi la lista verrà evoluta subito proveranno a fare sia Skellige che Simbiosi perché sono i due mazzi che si tra virgolette montano da soli ma poi se arriverà una versione di Simbiosi vedrete che sarà diversa da quella iniziale mentre Skellige più o meno cambierà un paio di bronzo ma sarà quella poi la gente si rende conto di quanto è sbroccata sta meccanica che verrà provata al day 1 poi abbandonata perché la gente non sa montare i mazzi e per ultima popperà Nilfgaard dal nulla quando il meta si è stabilito capiremo se può giocare o meno perché questo è e quindi ragazzuoli da Klaus è tutto per questo video è tutto vi invito ancora a lasciare un like e noi ci vediamo al prossimo video ciao gari ciao